E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' 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 un'altra parte. E' un'altra parte di 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 un'altra parte di un'altra parte. E' 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 a chiudere ancora Savoyi, andiamo a vedere un po' il TEC, 45.6, il miglior lap time in questa ora del Gabriele, il settetto potrebbe diventare un novetto, un nuovo di Pasqua, però potrebbero diventare i nuovi in lotta per la terza posizione. E' un po' leggermente meglio, un decimo meglio rispetto a Di Pietro, poi Bacciaga, eliminante, Serra, Pia, Cristina, Bauta, Cedricio, Pini, e a chiudere Donati, Donati ha sembrato a prendere Pini, e l'ultima è Alessandro Savoyi, andiamo ad iniziare l'ultimo giro, i primi due hanno staccato il resto della comitiva, questa volta qua, da quando la... Questo è quanto, il 3-4-3, non lo piace, questo è quanto, questo è quanto, Gabriel è davanti all'Adriano, i due, se la stanno battagliando la grande, la maniera scacchi nelle mani di Roby Gandole, è pronta, e Gabriel di Pietro, Adriano Fontana, 1-2, poi Riccardo Bacciaga, che ce la fa, il terzo dolo, e altri dobbiamo fare, parecchi italiani davanti, andiamo a vedere tra Firenze e Giacomo Motti, la battaglia. Per fortuna, non la testa, chi me l'ha tirata? Chi me l'ha tirata? Andiamo a vedere com'è venuta fuori la staccata iniziale, io me la sono un po' persa, ma anche con la mia giustificazione, una bella pietra violetta, ma peccato, quindi, andiamo a vedere i primi due, fu sempre a loro. Un giro, poi arriva anche staccato iniziale, di Giuliani. Buona partenza, davanti, e il diamo, Michael Giacomo Motti, di niente, poi Blanet, Blanet, in terza posizione francese, quindi, in quarta, ci ritorniamo con Jason Mosotti, poi Mognole Povers, questi sono il Firenze davanti, e il Michael Giacomo Motti dietro, a te ve ne vedete. Un di Firenze, che ci sembra molto a suo agio, che ci sembra molto a suo agio, e il Giacomo Motti, che ci sembra molto a suo agio, che ci sembra molto a suo agio, ma si ritrova a quello che è veramente vicino, quindi un pericolo per lui, ma anche due giri alla fine, andiamo poi anche a vedere i tempi, per capire, 44 a quadro già nel giro precedente, con Gianelli Motti, con Gianelli, con Gianelli, con Gianelli Motti, Lo si vede anche parecchio bene, visto che ha una tappa fosporescente come colore. Buon per Simone Tirente, che è riuscito ad allungare la eva per l'ultimo giro. Lui poi è Giacomo Motti. Giacomo Motti, Giacomo Motti, Giacomo Motti che tenta in qualche modo di andare all'attacco. Vediamo l'arrivo, quasi involata, ne ha di più Giacomo Motti ma vince Firenze, Giacomo Motti. Giacomo Motti, Clanelli in prima fila, Gossetti che va all'attacco, Zoppetti che si mette davanti e poi... ...ma era una batteria, quella che aveva fatto sentire. E' un po' che non si arriva, si arriva. No, io mi sapevo. Emilia... Gli diamo uno sguardo per essere sicuri di quello che stiamo dicendo, molto per ieri che abbiamo letto una base per un'altra e non ci ritardavano e in settima posizione dietro a Keller in fondo abbiamo Pierrocco, Milani e Weiss con l'ultima posizione sopra i piedi di calcio salvo i piedi di calcio ma non è una dimostrazione di giurassorza ha fatto capire che ci siamo siamo sul piede giusto eccolo qua il Gabriel il Gabriel avanti il Gabriel che tiene banali di sangue si fa passare da Milani quindi ottima prova di tiramani che passa in quarta e relega Nick Greco in quinta Zoppetti continua il tempo si fa e al prossimo passaggio dovremo essere all'ultimo giro altro di un pettone lì in mezzo belli tosti, belli stretti, belli pigiati la certa è la posizione eccolo qua Gabriel Zoppetti e il resto del florento e il resto del florento lo possiamo dire tranquillamente il Gabriel è in palla Zoppetti poi dietro a Zoppetti Nickis ottimo Bostetti sul semaforo che ci andiamo dai taglia, 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 taglia di aria Borgolini si deve mettere in coda buona morning secondo di più in quarta di più in quarta deve reggere nell'entrata nella S adesso si sta per riscattare nuovamente Borgolini in modo esorbitante lasciando per fortuna abbiamo da parte a livello nazionalistico al Borgolini l'entrata intanto davanti con 6.57 è una situazione assurda fossero due cani basta puntare un secchio d'acqua a livello nazionista non superare in quel tratto perché altrimenti si va a condizionare quindi secondo dopo 680 e poi abbiamo il cuore il bandello lo è adesso da vedere come si sono agganciati gli ultimi mi sa che ci sia il 680 vediamo che manca bello manca della Cani della Cani Zimaridis penso ancora sempre davanti lui situazione abbastanza strana quella che si è verificata nel tratto di lettilineo andiamo all'inizio dell'ultimo giro e davanti per Ramiro Queio non ci sono problemi va come un treno siamo andati mi sa che ci sia un treno che si è verificata i giorni in cui avvi in cui avvi la Cani Zimaridis è verificata il caso è importante e il saluto non c'è non c'è il tempo è verificato che ci sia quando avvi si deve si deve avvi ...quello di Puglielo... ...desso lo vediamo... ...quello di Puglielo... ...intanto davanti... ...senza problemi... ...Ramio...Ramio Cueio... ...porta a casa una... ...vittoria alla grande Borm... ...e deve difendersi proprio all'ultimo... ...dare il ritorno di Vicky Bormodini... ...finalmente diventa come deve diventare... ...i due spagnoli... ...ma...il marci... ...ma...il marci... ...quello di Puglielo... ...quello di Puglielo... ...quello di Puglielo... ...ha vinto... ...un hit... ...del tardo... ...tardissimo pomeriggio di ieri... ...Celo Gallo un po'... ...attardato... ...ottimamente... ...con il 6.50... ...minis in seconda... ...e due spagnoli... ...dalla prima fila... ...decisamente con più... ...con più... ...passo... ...con più motore... ...sono andati via subito sullo spunto... ...Marcello Gallo dietro di inseguire... ...anche ieri... ...abbiamo visto così... ...poi... ... ... ... ...seplicemente... ...decifravamo... ...quello che vedevamo in pista... ...Marcello Gallo... ...Guinos... ... 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